L'Università di Salerno entra per la prima volta nella top 500 delle università mondiali nella classifica NTU 2018. Elaborata dalla National University di Taiwan, è finalizzata a valutare le università mondiali in base alle loro produzioni scientifiche e all'impatto delle loro pubblicazioni. L'Ateneo salernitano si è collocato al 468 posto, recuperando posizioni rispetto allo scorso anno, quando era collocato nel range 501-600. Nel complimentarsi per la straordinaria performance dell'Ateneo, NTU ha comunicato risultati particolarmente positivi per la ricerca scientifica prodotta nei settori della computer science, ingegneria civile, meccanica e chimica. Orgogliosi di attestarci e migliorare il nostro posizionamento in questa nuova classifica internazionale, ha dichiarato il rettore Aurelio Tommasetti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS